Mary Jane ASMR Ciao ragazzi Bentornati Come state? Tutto bene? Spero di cuore Di sì Oggi Ci rilasseremo Insieme Con Dei trigger Molto Molto Rilassanti a mio avviso Però Prima di tutto Andiamo a mettere un po' di lip gloss Ok Luna è sempre nei baraggi Sto facendo Sto facendo un po' di confusione Allora L'altro giorno Come viaggio è nato in live Sulla piattaforma viola Sono andata a fare un po' di shopping All'OVS E ho trovato questa Bellissima palette Che Che è costata pure poco L'ho pagata a 16,90 euro Se non mi Se non mi sbaglio L'ho presa Sia Per il Soprattutto ovviamente Per il Contenuto Perché ha Questi bellissimi colori Ve li mostro qui da vicino Guardate che bei colori Mi piacciono Per l'estetica Che È davvero bella Con i colori che mi piacciono E Anche Per il Tapping Che ne deriva E Io ve lo volevo far sentire Troppo rilassante A mio avviso Grazie mille Con i colori che ci sono mi è piaciuta un sacco e ho anche provato i colori il trucco è un po' sfatto adesso ragazzi perché ho terminato la live da poco infatti mi sono truccata oggi con questi ombretti ci sono colori che decisamente mi piacciono ombretti che decisamente mi piacciono ombretti che invece mi piacciono un po' meno e ad essere sincera sicuramente non mi stanno neanche però dato il costo che mi è sembrato basso e comunque la quantità di ombretti perché sì ci sono i blush però sono sempre di più gli ombretti di solito data la quantità di ombretti ho detto io me la prendo lo stesso perché comunque molti dei colori mi piacciono poi vabbè tendenzialmente uso sempre gli stessi colori però qualche volta capita che metto colore un po' più allegri vivaci insomma però il tapping ragazzi su questa palette è qualcosa di meraviglioso che non mi piacciono Grazie a tutti. 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 Poi un altro trigger sempre per mantenerci sui colori rosa nel video di oggi è lo squishy trigger potenti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. E sempre rimanendo. non potevano non potevano non potevano mancare. in un video in un video super rilassante. non potevano non potevano... non potevano ama potevano non potevano, che perwarzano... non le ascoltavate sul canale, ma solo nelle live, ma solo nelle live. è giusto portarle anche qui è giusto portarle con questa scuola non è giusto portarle guardarlo il tuo corpo guarda la scuola spurs 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 Grazie a tutti. 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 Ciao.